Ciao a tutti, come sempre, come prima mi chiamo Amelie e sono qua a Monaco di Baviera per la quinta conferenza internazionale di Imgoldex. Ma fatevi una domanda, io perché sono qua? Io sono qua perché ci credo, perché io ci credo con tutta l'anima, perché io lavoro, io guadagno. E entrate in questo business, intraprendete questa avventura, perché è sempre un'azienda valida, credeteci, io ci credo per quello che sono qua, se no non sarei qua. E ora vi dico, Gold is Money, mi raccomando. Ciao!